Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Oggi parliamo di segni, di segnali. I segnali oggi fanno la differenza sia quando c'è qualcosa di concreto sia anche quando non c'è nulla di reale. Però noi ne parliamo in questo video perché è giusto dare un'interpretazione a quelli che sono stati dei segnali importanti a mio avviso, anche se possono non volere dire niente, ma nel post partita di Torino-Bologna Tiago Motta si lascia un sorriso a 32 denti. Ora vi raccontiamo cosa è successo ai microfoni dell'intervistatore TV. Prima però vi chiedo ovviamente un'iscrizione che è gratuita. Dai, siamo a un passo dai 10.000, siamo proprio a un passo. Mancano 750 iscritti che direi sono tanti, ma rispetto a quello che abbiamo fatto in questi quasi due anni sono briciole. Dobbiamo farcela. Altri 750 iscritti e tocchiamo quota 10.000 e facciamo una mega festa per tutti voi, anche dal vivo, non abbiamo problemi. Ci facciamo tutto quello che serve. Detto questo lasciate anche un bel mi piace, condividete il video, commentatelo, fatemi sapere la vostra. Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti, video e live sul mondo Juventus e non solo. Allora, che è successo ieri? Ieri è successa una cosa simpatica, no? Nominano Vlaovic e Bremer e la reazione di Tiago Motta è subito virale. Allora, in un mondo che ormai è diventato talmente social che tutti i segnali che arrivano vengono interpretati in mille modi, e questo è vero, ce n'è uno che i tifosi bianconeri, scusate, hanno deciso di vedere solo ed esclusivamente in uno. Insomma, mai come prima d'ora i tifosi della Juventus sembrano uniti e il mai prima d'ora è ovviamente legato alla scelta del nuovo allenatore. Parliamo di Tiago Motta che ieri con il suo Bologna ha pareggiato 0-0 contro il Torino di Juric e che forse sente già aria di casa. Il perché? Alla fine della partita l'inviato di Dazon ha posto una domanda juventina all'attuale trainer degli emiliani, una domanda non su Vlaovic e Bremer ma facendo riferimento proprio ai giocatori bianconeri. Praticamente gli chiedono, gli parlano dei difensori, no? Dice Allegri una volta ha detto che Vlaovic si deve portare a spasso Bremer. E cosa è successo? Tiago Motta si è messo immediatamente a sorridere, lo ha fatto in maniera spontanea. E questo per molti tifosi della Juventus sui social è un segnale di quello che sarà il suo futuro. Un futuro che molti descrivono a tinte bianconere con un Zirk Z come richiesta e con un Calafiori come altro obiettivo. E quindi cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che è un nulla cosmico? Ci sta. Vogliamo dire che è qualcosa? Ci sta anche quello. Ovviamente non siamo nella mente di Tiago Motta e nella mente degli allenatori e dei calciatori ma sicuramente l'inviato di Dazon ha fatto un riferimento preciso e l'ha fatto secondo noi in maniera proprio indirizzata a capire una reazione dell'allenatore italo-brasiliano per cercare poi di far partire la raffica di commenti social, reazioni. E tra l'altro ormai la clip è diventata virale e Tiago Motta ha fatto un sorriso proprio, non so come dire, una soddisfazione forse come un ragazzino quando gli dici che andrai a incontrare i tuoi giocatori della squadra del cuore. Quindi non è la Juventus la squadra del cuore di Tiago Motta, almeno credo, però sicuramente per lui se fosse il nuovo allenatore della Juventus sarebbe una soddisfazione grandissima. Ora io ribadisco, come ho detto sempre, Tiago Motta è quello più vicino, però nel calcio non si sa mai e soprattutto nel calcio mercato non si sa mai. Anche gli ultimi avvistamenti di Conte, le ultime chiamate, le ultime cene con Ferrero vogliono dire sicuramente qualcosa perché non credo che abbiano parlato di cose strane e non inerenti al calcio e soprattutto alla Juventus. Cosa ci fa il presidente della Juventus attuale a parlare con Antonio Conte? Secondo me ha voluto sapere un po' quello che gli frulla per la testa, ha voluto sapere un po' le pretese economiche perché forse Giuntoli era impegnato su altri tavoli o forse Ferrero ha un rapporto diverso con Antonio Conte e ha voluto parlarci lui direttamente? Non lo sappiamo, non lo sappiamo ma sicuramente qualcosa c'è, qualcosa c'è e non possiamo dire che è il nulla cosmico. Ecco il sorriso, perché non è una risata, il sorriso spontaneo di Tiago Motta sicuramente può essere il nulla cosmico ma ancora non lo sappiamo. Quindi se dobbiamo calcolare tutte le cose che succedono e che ci danno dei segnali sicuramente ci danno modo a noi di parlare, a voi di intervenire anche perché se un ragionamento come questo su una gestualità lo facessero una trasmissione sportiva e calcistica in tv voi non potreste intervenire o al massimo in quei programmi dove vi danno il numero di whatsapp per scrivere durante la trasmissione ne leggono uno su mille. Quindi noi creiamo contenuti anche su questo, proprio per cercare di avere più interazione possibile con voi e per capire anche il pubblico cosa si aspetta da questa Juventus. Se si aspetta un Conte, se si aspetta un Tiago Motta, se si aspetta un improbabile rinnovo di Allegri se si aspetta un terzo nome così di un nuovo allenatore a caso, un nome non chiacchierato troppo in questi mesi non lo so, io la mia sensazione ce l'ho e ve la ribadisco sempre. Credo che sì, questo sorriso sia molto importante, è una cosa che sicuramente rafforza la posizione di Tiago Motta alla Juventus ma ho il brutto vizio io di non essere standard nel pensiero, ho sempre il vizio di andare a vedere oltre spesso e volentieri ci possiamo anche sbagliare ma ripeto queste sono sensazioni non possiamo parlare di ufficialità, di indiscrezioni importanti come le cene, le cene tra Ferrero e Conte sono un qualcosa di reale ma sono un qualcosa di embrionale perché in una scena si può parlare anche semplicemente delle pretese economiche poi da lì a vestire il ruolo di allenatore della Juventus per la prossima stagione c'è di mezzo veramente un oceano pacifico ho lo stesso sorriso di Motta è che questo sorriso di Motta mi dà l'idea ripeto di essere una cosa molto spontanea e quindi di fargli venire fuori questo sorriso o anche perché forse si aspettava questa domanda e allora sorriso mi volete proprio mandare la Juventus ma io voglio rimanere a Bologna un sorriso del genere non è secondo me un indizio per un'altra squadra che si chiami al di fuori della Juventus o del Bologna il sorriso può essere perché è legato ai colori del Bologna il sorriso può essere perché non vede l'ora di vestire il ruolo di tecnico della Juve ma non credo voglia dire me ne vado al Milan infatti è un sorriso a paraculo mi sembrava molto 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 vero molto reale non lo so non lo so ditemi anche voi ripeto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dateci una mano a crescere condividete il video più possibile commentatelo lasciate un bel mi piace attivate la campanella delle notifiche iscrivetevi a questo canale che adesso come la trattativa tra Tiago Motta e la Juventus o tra Conte e la Juventus è in fase può essere già definita ma può essere anche in fase embrionale chi lo sa questo canale è ancora in fase di crescita in fase iniziale perché diciamo che il vero il vero il bello il vero bello arriva dai 10.000 in poi poi dai 100.000 in su c'è ancora più cose dal milione in su c'è ancora non ci aspettiamo ad oggi questi numeri ma non ci preludiamo niente quindi mi raccomando scrivetemi cosa ne pensate e come sempre fino alla fine Gobbo Toscano e Forza Juve ciao